quell'altro però era già uscito, cioè potevi già giocarci ok cazzo, già siamo dentro demolizione, fantasma prendiamo sto fa ma oddio si vede una merda, già l'odio fa schifo fa cazzo se batte il field vado ma dove si è che non c'è la minima, non c'è la minima io ho davide davanti quindi tipo lo bait, me lo faccio e mi baita che dio ma cazzo non si muove sto gioco, fa schifo fa ma si ricola tutto a storpo ma ci si cura? come funziona? sopra di te? ah ti copro bro ho tirato una stunna tipo chi è quello dietro al muro? fill? no ubiso ho fatto un ledge slide che non funziona ma si lo sto gioco mi piace ma si può correre piano e correre veloce devi premere due volte vabbè che roba cos'è che fai? se premi due volte corri veloce, se premi una volta corri piano che puttanata ma Matti ma dove nascono? non lo sa questo lo sta facendo i diretti no 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 ha fatto una kill ha fatto una scarica in testa 1 ah l'aug è la mitraglietta? no mi sa che no mi sa che copia l'equipaggiamento posso copiarli l'equipaggiamento con triangolo? ma che è? tipo copycat ma che cazzo è? e non i bugger raga pauroso ecco con l2 tiro la stun credo sia ok ce l'abbiamo raga, abbiamo capito tutto del gioco riparo mobile disponibile comunque è la mini mappa che non l'ha messa ah ha piaciuto l'acquara hai salvato due cari lol la barriera come fa una kill con la granata va? ah ma si sta dai io sono il loro spawn mi nascono davanti mv2 qui l'ha fatto una triple io ho fatto una kill fino a mo non capisco riparo mobile disponibile cos'è? ho piantato un pisello no raga sono in fondo mappa che merda ma perchè i salti sono così poco? seleziona semi automatico seleziona automatico dove nascono boys? eh sono in fondo in fondo in fondo stanno camperando i bastard non mi posso cura io? no no non ti curi? oh i like this game UAB pronto assorbato è il tuo bro oh cazzo oh con la minimappa capiamo e questo qua stardo? dov'è? sopra morto ah con la minimappa è un altro gioco signori mamma mia mamma mia no no c'è un fantasma ma sto bamboccio dietro di voi ragazzi c'è un fantasma tipo quanto c'ho la sensibilità? tipo 1 c'ho sensibilità 3-3 4 metto 4 dai proviamo 4 4 4 è abbastanza onesta c'è 6-6 c'è 6-6 va? c'è 6-6 come bruce che ci hanno massacrato mi ha dato un colpo gli ho dato però aspetta che non mi curo non mi fa cura questa cosa mi triggera che non mi curo 8.000 lento questo schifo di famasso ci ho mirato zio pera l'elicottero la salta ma ci sono gli echi a 1v come si tira? che figa l'elicottero? no vabbè non ci credo ma mi stai dicendo che ero... è un attimo aciotto rega è il coso quello di mv2 no vabbè non si ricaricare mentre corra ah quello che guidi supporto è bello quello eh quello che si piava 10 su mv2 eh rega si può ricaricare mentre si corre? mi sa di non lo so si c'è l'opzione mi sa mi dovete di perk di sto gioco perchè cosi non si capisce nulla ho provato a scavalcare qualcosa di inscavalcabile a colgare i weed ma perchè tipo da due raffiche di famas? fammi capire cosa è sta cosa? missile fluido ma come si guida? bellissimo sto gioco c'ha oddio ma che cazzo si non si capisce un cazzo senza minima oddio il predator che cazzo è oh oh è bello il predator però se ci fosse la minima sarebbe 10 volte meglio no vabbè ma non puoi tornare la gente eh minchia però la senza minima veramente hanno fatto una cazzata eh battlefield senza minima lo devo chiamare il coso? eeeh minchia vorrei troppo giocare a un gioco dove si muove veloce però mi abituerò a queste cose che buco sono? eeeh oddio eccomi qua che spunto ma non c'ho neanche sto uno lagga un botto credo? no no è il fill che lagga eh la lobby è la lobby oddio lagga pure questo accanto a si ma li vedi laggare ma in realtà non lagga no? ma se tipo esci dagli angoli saltando sei una free kill quasi tipo non è una cosa che ti avvantaggia oh mi ha bruciato una molotov però ora quello dove cappi qua e con stakil ora non è la beta mamma mio ti giuro devi dimostrare nella beta non ci credo free agent for the cdl upcoming 2020 coso è bellissimo sto gioco ma dimmi un'altra volta che non l'ho capito che ti piace forse per un anno posso carriare ah no merda mi sono stuonato da solo non so se era muo non so se era il 2 cioè diciamo che diciamo che mi fa ribrezzo come muoio comunque a me fa schifo mi fa proprio ribrezzo come voglio non è che fa schifo però rispetto a a come dovrebbe essere cod fa cagare cod non lo so come dovrebbe essere cioè non c'è uno oddio quanto lagga ma sta laggando tutto e la sai granata ma mi da un colpo dai oh non mi piace batter fin da me ma volevo giocare a black hole squad un'altra stagione progles ma poi la gente dove te lo dico dov'è che sta caverna ovest ma che stiamo a giocare a blackout non lo so mi pagassero per parlare bene di sto gioco almeno se lo farei porca puttana fa schifo poi non capisco dove sto è finita vittoria ho fatto 7 kill hai domina fredax 30 kill ho fatto quante kill ho fatto? 10? e quante morti ho fatto? non c'è scritto questo gioco fa schifo ma signori è letteralmente una vergo